ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi proverò a distruggere il longine idroconquest ma vi dico subito che non sarà cosa facile perché naturalmente questo è un bellissimo pezzo considerate che longine in svizzera è una delle aziende che vende di più dopo rolex e dopo mega viene longine quindi chiaramente ha bisogno di cavalli di battaglia e uno di questi è sicuramente il longine idroconquest io non l'ho mai comprato perché ce l'ha un mio amico ho sempre considerato che avrei potuto avrebbe potuto prestarmelo per fare una recensione poi dopo mi sono rotto i coglioni di fare le recensioni e per cui insomma non l'ho nemmai recensito neanche mai l'ho acquistato comunque oggi proverò siccome lo conosco bene proverò a distruggere questo orologio allora primo difetto sicuramente sono questi numeri arabi che c'ha che sono troppo grandi sul quadrante questo orologio nasce nel 2007 nasceva già con questa configurazione inizialmente c'aveva qualche indice di più a bastone in più ora è stato un po' pulito ma grosso modo il design originale è rimasto salve salvo una una parentesi di tre anni dove fu inserito dove su fu adottato un quadrante con tutti i numeri arabi che tra l'altro sono anche dice che sono anche ricercati questi orologi perché sono stati prodotti soltanto per due tre anni ma grosso modo e la configurazione io credo che abbiano fatto bene anche a tornare con la configurazione originale è quella che vediamo oggi allora sicuramente questo è un difetto è indiscutibile perché gli equilibri l'armonia di questo questo quadrante ne sicuramente cioè viene penalizzata ma d'altra parte diventa anche un orologio sicuramente molto riconoscibile perché con questi grossi con questi grossi numeri anche di notte si vedono sono molto si vedono molto chiaramente per cui anche molto ben leggibile e questo sicuramente fa sì che l'orologio prenda prenda personalità come secondo sicuramente come secondo difetto metterei le spallette che coprono che proteggono la corona sono spallette sicuramente semplici stilizzate sono trapezio ed ali però anche queste contribuiscono al fascino dell'orologio dell'orologio stesso per cui anche da questo punto di vista non mi sento di essere troppo troppo critico ecco su questo orologio un altro su questo su questa caratteristica su questo chiamiamolo così difetto ora un altro punto che viene molto criticato è la clasp la clasp è molto semplice è una clasp che assolutamente funziona benissimo però è molti dicono sì ma è molto datata oggi ci sono orologi che sono hanno delle delle chiusure molto più molto più elaborate sì questo è vero però bisogna anche stare molto attenti perché qua tutte le volte che si chiede qualcosa quando se la danno prezzi aumentano e secondo me oggi come oggi questo orologio si posizionano in una fascia di mercato che lo rende ancora accessibile per cui andare a cioè io non vorrei creare un altro omega che poi dopo abbiamo omega con quelle le cifre lì che sta continuamente lievitando per poi avere un altro orologio sì bellissimo fatto perfettamente ma poi a un prezzo assolutamente inaccessibile per cui io resterei ecco con questa secondo me questo è un buon equilibrio avere una clasp come questa che poi c'è anche la possibilità dell'estensione per per la muta io resterei appunto con in questa sicuramente rimarrei con questa configurazione dopodiché ci sono le misure allora 44 mm secondo me sono troppi oltretutto questo non è neanche un orologio che si considera un sì è un sub ma è un sub di quelli che sono elegantini con questo direi che ha qualcosa ai suoi competitori sono l'oris aquis il tagoyer acqua racer il rado captain cook per rimanere insomma nel gruppo nel gruppo swatch per cui direi che 41 mm sono assolutamente esagerati cioè 44 mm scusate 44 mm potrebbero aver senso veramente per un tool watch veramente per uno strumento che necessita appunto di una di insomma di essere letto magari anche sott'acqua no per cui a questo lo vedo poco indicato anche il bracciale e le maglie interne sono lucide per cui si vede si denota proprio un volere essere un orologio anche da poter che dà la possibilità di essere abbinato anche con un abbigliamento sicuramente elegante ma tendente insomma anche allo sportivo elegante sportivo per cui anche questo sicuramente e poi ci sono le non è un difetto cioè potrebbe essere un difetto se ci fosse soltanto da 44 mm ma siccome c'è anche la versione da 41 mm non lo posso considerare un difetto parliamo del movimento movimento non è un movimento che ha delle prestazioni paurose allora questo è assolutamente vero è quello che hanno fatto con il 28 24 è un 28 92 allora la storia di inizialmente nel 2007 c'avevamo 28 92 poi c'è avuto una parentesi col 28 24 dopodiché è tornato al 28 92 il 28 92 viene considerato di più rispetto al 28 24 ma non c'è un motivo non c'è un motivo reale non è che sia un movimento migliore o peggiore tutti i movimenti eta hanno 4 gradi di livello come livello anche di prestazioni sicuramente qui siamo nella parte bassa cioè nel senso per cui non è che qua abbiamo sicuramente un movimento con delle prestazioni per quello ci sono c'è naturalmente omega no che c'ha la certificazione metas ecco per quello ci sono a c'è qualcos'altro qua abbiamo sicuramente un orologio con buone prestazioni accettabili su cui si può fare naturalmente affidamento niente di eccezionale invece per quanto e non è migliore del 28 24 soltanto il 28 92 è leggermente più e più snello questo assolutamente sì e solitamente viene dato ad orologi che sono di fascia quando viene venduto a aziende di livello insomma aziende esterne solitamente sono di livello più alto il 28 92 per esempio viene utilizzato anche dai wc per esempio quindi è chiaro che qua ecco il motivo per il quale viene considerato di più ma non c'è un motivo reale per che lo che lo posiziona a livello superiore del 28 del 28 24 le lavorazioni ci sono il movimento è lavorato sono naturalmente lavorazioni industriali non c'è niente naturalmente di manuale però quello anche che apprezzo è che invece ci sono anche la parte della ciambella che è in metallo in questo caso qui mentre invece per esempio il tagoyer acquaresere è in plastica ma non è che io sono contrario alla plastica rispetto al metallo è che se il metallo è lavorato allora preferisco il metallo se deve essere una ciambella di metallo messa lì allora non ad acciaio messa lì allora mi va bene anche la plastica ecco dipende dalle lavorazioni e anche in questo caso qui è lavorato per cui io direi che assolutamente questo è un punto sicuramente da apprezzare dopodiché c'è la ghiera che si può scegliere tra alluminio e ceramica io andrei sulla ceramica costa comunque sia un bel po di più perché credo che ci valino 500 euro tra uno e quell'altro per cui come prezzi di mercato perché come listino credo che vada su 1700 poi si trovi si trova sui 1500 la versione in ceramica con la ghiera in ceramica e la parte e invece circa 1000 la parte quella gli onologi in alluminio io però l'ho visto dal vivo e devo dire che quello con la ghiera in ceramica secondo me è molto più bello non solo perché è ceramica ma anche e quindi insomma per un orologio comunque sia elegante è qualcosa sicuramente di più apprezzabile ma anche perché il disegno proprio cioè i numeri sopra mi piacciono di più anche i font il font dei numeri mi piace mi piace di più per cui insomma ecco io un po' di difettucci ce li ho anche palesati ve li ho anche detti però obiettivamente nella fascia di mercato nel prezzo nella fascia diciamo di prezzo dove si posiziona all'onjin idroconquest io non so se considerarli veri e propri difetti o se invece sono delle caratteristiche che danno la possibilità o di essere riconosciuto tra tanti orologi per cui ha una propria personalità e l'avrà sempre di più perché comunque è un orologio che viene prodotto dal 2007 con tanto successo perché guardate questo è un orologio e mi capita spesso mi capita veramente poco che si trova cioè io vedo la gente che ce l'ha lo stesso mio amico che non è un appassionato di orologi l'ha comprato così andato così al negozio l'ha comprato le hanno proposti diversi a lui piaceva e l'ha comprato cioè un orologio che ha un grosso successo un grosso successo non solo tra gli appassionati ma molto molto un successo molto variegato tra persone appunto che indossano l'orologio così perché anche il fatto che la gente dice non serve più l'orologio sappiamo che cioè lo sappiamo lo so solo io perché la gente continua e continuate a dire sempre che si potrebbe vivere senza orologio se si potrebbe ma male l'orologio assolutamente ancora è un fatto assolutamente necessario per cui naturalmente chi ha bisogno di un orologio va in negozio li propongono diversi orologi e quello è sicuramente un orologio bello da vedere e spesso viene viene acquistato inoltre so che in cina vende vende tantissimo in oriente la longin vende tantissimo per cui è uno veramente un è il longin idroconquest è un cavallo di battaglia sicuramente la longin stessa nel gruppo swatch è un'azienda che vende tantissimo devo dire anche che è un'azienda che dal gruppo swatch è stata trattata bene cioè mentre gli altri spesso a parte direi rado ecco sicuramente naturalmente omega longin in parte ecco direi rado per quanto riguarda quei marchi più diciamo accessibili lasciamo perdere quelli di fascia di fascia alta e quelli va bene fanno una storia una storia a sé a sé direi che è uno di quei pochi di quelle poi di quei pochi brand che è stato valorizzato effettivamente cioè l'orgine è trattata bene e se nulla se nulla c'è negli ultimi anni è stata migliorata anche questo idroconquest è stato migliorato ecco tra l'altro come colori c'è veramente tanta possibilità c'è un grigio celeste va bene il classico il nero e poi c'è anche un verde che a me piace che a me piace tantissimo cosa vi devo dire io ci ho provato a stroncare questo orologio però effettivamente alzo le mani cioè non ci sono riuscito non ci sono riuscito ammetto di non esserci riuscito perché obiettivamente è un bel pezzo ok io spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti